rieccoci qua per il terzo e ultimo video dell'unboxing del case delle team direi di iniziare subito perché il video dura tanto e non parliamo cioè non stiamo lì a due ore a dire carta per carta esatto quindi io al massimo posso dire quelle che conosco perché sinceramente le altre non le conosco cioè quelle giocate vabbè io diciamolo chiaramente non gioco da così tanto tempo togliendo qualcuna molto vecchia tipo il giro esatto o quella la perché me lo ricordo del seno e c'è stato quella elementale elementale però c'è il neus il neus elementale sì però quale si è trovato nella busta questo si trova invece come promo direi di pacchettare ho visto un maestro un maestro bello finalmente mi posso completare il mazzo edison ecco la carta che ha fatto soffrire mi ha fatto soffrire ma ne devo trovare un altro così così faccio il 2x me lo gioco nel mazzo tu sbusti di promo fighe io tipo nei pack sto sbustando il merda a parte è di un'ora dopo l'abitudine quando meno lo apri 1 2 3 4 5 6 già questa questa fine già per me vale allora io la sto aprendo o naturia cameria questo è il pacco che ho fatto io ha già acqua cavaliere illegale quindi questo è un team illegale quindi si dovrebbe trovare a questo non l'abbiamo trovato abbiamo trovato l'altro c'è mi posso dare il mazzo zone l'upper leon e l'ho detto che è una team illegale non lasciate ancora c'erano due bustine vediamo se il mio tocco magico funziona oh mostro un bambolo orsetto 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 figa super dolor gatto fusione dispersione dinomorfia bella sta carta dinosauro figa dinomorfia terizia bello bel pacco è strano cioè strano non abbiamo fatto il trick vabbè l'hai fatto terriol beh comunque ci sono tanti mazzi che si possono fare e già comunque in una team il bestial lubelion e il maestro armatura e già sono 30 euro penso 40 forse sembra oh biccio sempre io prima sì sì vai micchia oh numero 39 utopia figo portate qua c'è il drago bianco lo sto aprendo io il drago oggetto scusa 3 4 5 6 e anche il bimbo six hours later tipo che non si deve aprire per forza con la forbice perché non si aprivano completamente le magic forse gli uombo di meno ma magic c'erano pack che non si potevano aprire cosa hai trovato? un'altra signora labyrinth top top e un altro spaventartiglio 3 cos'è c'è le sorella drago immortale una lanera punitore finale psichico oh carta labyrinth giocata vale qualcosa abbiamo sbustato praticamente un playset di quella c'è un 3x quindi giocabile poi ho notato che come sbustata stiamo sbustando un casino di labyrinth qualche cash tira e sorella a bizzetta adesso l'abbiamo trovato un ultimo un bot si 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 questo è nuovo questo è nuovo lui c'è light heart timo questo è il drago unito un altro draghetto il decimo tin abbiamo trovato finalmente il lubellion il lubellion e il maestro tutto in un tin pico allora qua c'è il tin quello poco ammaccato vedi vedi non ci schifo aspetta c'è un altro mi pare questo qua già non lo trovo ah il occhi galattici poi l'abbiamo trovato e sembra il gradito comunque non l'abbiamo detto negli altri video molte di queste carte se vi interesseranno le troverete listate nel mio card market personale insieme a altre carte che ho listato io vi lascerò il link per il suo market allora iniziamo un altro becchetto lo apro un altro becchetto lo apro i canni vediamo cosa anzi Rave Game lo sanno Libromante Fuoco lo sanno che mi chiamo Gianni l'istruzione l'unica glorioso il drago d'oro e poi Rave Game è il canale io sono Rave ah Rave Game Rave vabbè Rave e Alessandro è Xerion è Xerion è il Magic Uribbo l'abbiamo trovato di nuovo sono curioso io quando sbusto sbusto bene comunque è anche bello sbustare Magic oh una edizione congelanti Runic bello si gioca penso e Alessandro e Alessandro e Alessandro e Alessandro e Alessandro non so quanto valga però è figo questo è un pendulum mixis hanno fatto pendulum sincro pendulum fusione pendulum mosti normali mosti con effetto li hanno fatti tutti vediamo cosa anche se alcuni sono belli come artwork libromante in questi ultimi si stanno trovando carte strane tipo diverse questa l'abbiamo trovata artiglio no arrivo spaventa artiglio oh unicorn cestira cestira di un spezzo si si può dire si dito di Rmeris non so se vale qualcosa questo scrivete nei commenti se mi sbaglio le seconde secret valgono di più delle prime secret che si trova plausibile mi sembra mi ha dato questa impressione forse però lo bello non l'abbiamo trovato il primo ma c'è la l'ultima l'assima tin ammaccata ammaccata tin fortunata allora io sono contento perché è tira però già l'abbiamo trovata exodia oh 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 exodia exodia se lo trovo cosa il dragoggetto dragoggetto fascino osimene il proibito osimene il proibito eh gelantis drago del mare del re del mondo che cazzo che droga di strano questa cosa la più di un'altra lapini io mi sono per me questo è già l'altro perché io ho già me la pet quindi ora se vedrete sbustare sbustate direttamente io il nobil nike non non giungano se il nobil purtroppo fra le comuni non c'è qualche carta che si può giocare in edison in art e cioè quindi purtroppo le devo listare quasi tutte sul market punta la runic una secret e penso che si gioca e già è buona pianeta primitivo questo mi pare che è del cashtira no no spaventati io ah insomma togliendo exodia poi dice fattolo abbastare exodia fusione dispersione allora qui sicuro è una cagata di di boost visas start frost che l'hai trovato prima no comunque penso non sia una carta e insomma l'ultimo team è stato brutto ciò presto a pensare che qualcosa non andava per il verso giusto è stato deludendo deve essere tipo l'explore comunque è andato bene il decimo il decimo è andato benissimo non so se ci recupero con le spese del team penso di no con tutto il case però ci sono tante tante carte direi semplicemente se questo video o gli altri fanno almeno 500 like faremo un nuovo unboxing quindi tanta roba figa io penso che questo video vi piacerà e quindi al prossimo ti ricordo sempre il suo marketplace e alla prossima ciao ragazzi sì Grazie.